Nel 1964 ho scoperto su Colle del Telegrafo a Pescara tracce di un insediamento protovillanoviano. Tra i numerosi reperti di vasellane sono venuti alla luce frammenti di una tavola in terracotta nera con impressi impronte di piccole mani, certamente una scrittura che però non risultava riferibile ad alcun codice noto. Attraverso pazienti studi, comparativi e reiterate tentative, alla fine ho potuto individuare il contenuto in una forma rituale per la realizzazione di un oggetto apotropaico valido nei tempi. Il testo, esauriente per quanto riguarda la sua efficacia per l'allontanamento dei mali, è però mancante della definizione di misure, forme e materiali per la realizzazione.